ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato agli effetti proseguiamo l'esplorazione della categoria distorsione andando a vedere il cc split e il cc split 2 per cui ci portiamo su questa composizione dove aggiungiamo un tinta unita e con quest'ultimo selezionato andiamo su effetto nella categoria distorsione e clicchiamo cc split lo scopo di questo effetto come il nome suggerisce che tradotto significa dividi è quello di tagliare il livello su cui viene applicato e la misura o estensione di questo taglio è gestito da questi due cursori che ora sono apparsi orizzontalmente al centro del monitor rappresentati dalle proprietà point a e point b presenti nella finestra del controllo effetti e che possiamo spostare tramite le coordinate x e y utilizzando il cursore del punto centrale o trascinarli direttamente dal monitor successivamente troviamo l'ultima proprietà chiamata split ovvero dividi se aumentiamo questo parametro i pixel che si trovano tra i due punti come su una linea immaginaria orizzontale si sposteranno in alto e in basso generando una curva che può arrivare a un massimo di 250 la forma che assume nelle varie dimensioni ricorda un occhio che si apre o una bocca come vedete questo effetto è tutto qua e non ci sono altre proprietà per modificarne l'aspetto ma prima di fare qualche esempio vediamo la versione chiamata cc split 2 quindi disattivo il primo e con il livello selezionato vado su effetto distorsione e clicco cc split 2 appena inserito vedremo nel monitor gli stessi due cursori del point a e del point b con le relative proprietà nella finestra del controllo effetti e a differenza del precedente non abbiamo un'unica opzione di split ma bensì due qui possiamo impostare la quantità di curvatura superiore o inferiore del taglio che viene applicato infatti split 1 taglia e piega i pixel della linea immaginare tra i due punti verso il basso andando generare una forma simile al movimento di una bocca del labbro inferiore mentre split 2 fa la stessa cosa interagendo però con il labbro superiore ed entrambe le proprietà possono arrivare a un valore massimo di 250 ora sembra che l'unica differenza tra i due effetti sia la possibilità di controllare in maniera indipendente la parte inferiore e quella superiore ma lo split 2 nasconde un comando un pochino più interessante ovvero l'opzione profile che vediamo sotto forma di un testo blu a fianco di quello del ripristina se lo clicchiamo ci aprirà una finestra che ci permette di personalizzare la forma della curva che viene generata che vediamo all'interno di questo grafico che per impostazione predefinita si trova sul preset chiamato bump e che genera una curva con questa forma ma dal menu possiamo cambiarla in sharp che trasforma la curva in un angolo o come terza opzione in robotic che genera questa forma trapezoidale se volessimo applicare la forma punta sull'effetto selezioniamo la modalità sharp e clicchiamo il pulsante ok e ora avremo un taglio del livello inferiore e superiore con un angolo al posto della curva possiamo rientrare nell'opzione profile ricliccando il testo e se con il mouse premuto entriamo nel perimetro del grafico possiamo modificare la sua forma e vedremo che ora nel menu è apparsa la modalità custom una volta creata una forma rappresentata dalla parte più scura del grafico possiamo applicarla premendo il tasto ok in più abbiamo due pulsanti aggiuntivi il tasto normalize che se premuto prenderà la parte più alta della curva disegnata e la posizionerà fino al limite superiore del grafico e se ora clicchiamo ok avremo la nuova forma applicata sul livello ma queste modifiche manuali generano dei bordi frastagliati poco belli da vedere per cui possiamo rientrare nell'opzione profile e cliccare molte volte il pulsante soften questo serve per levigare i bordi per cui dopo una decina di clic o anche di più premiamo ok e ora vedremo che i bordi sono diventati un pochino più netti per ripristinare la forma curvilinea predefinita reimpostiamo il preset bump e clicchiamo ok come avete visto questi effetti sono piuttosto semplici e immediati anche se il loro utilizzo non è proprio scontato per cui vediamo come usarli ma prima approfondiamo un aspetto che reputo sia utile per comprenderli al meglio per cui ci spostiamo su questa composizione dove è una foto di un muro di mattoni inseriamo il cc split 2 così da avere i due cursori a schermo modifichiamo il parametro della proprietà split 2 portando all'attorno all'80 per cento ora il primo aspetto da considerare è che la divisione della fotografia non avviene semplicemente tagliando il livello e spostandolo come farebbe una maschera ma bensì la porzione ritagliata va a comprimere i pixel e quindi la trama dando la sensazione che l'immagine si schiacci progressivamente apriamo l'opzione profile e coloriamo tutto il grafico creando una forma rettangolare e diciamo che questo comando non è proprio preciso e immediato ma una volta colorata tutta la superficie premiamo ok e ora vedremo la porzione del muro in maniera rettangolare alzarsi come una tapparella dove i pixel interessati non verranno semplicemente spostati verso l'alto ma bensì schiacciati e spostando il punto a e b fuori dallo schermo andremo a creare anche una transizione con un eventuale livello che si trova sotto ma direi di lasciare un attimo da parte le transizioni perché le troveremo presto e alcune di loro fanno esattamente questo lavoro riportiamo con il control z i cursori al centro con la nostra tapparella e ora un piccolo trucchetto per far sì che la parte superiore e quella inferiore si aprono contemporaneamente senza doverle animare nello stesso modo e collegare le due proprietà tramite espressione per cui con i parametri a zero faccio alt più clic sull'orologio dello split 2 prendo il suo pick whip e lo collego allo split 1 così cambiando e animando solo questa proprietà le andremo a muovere entrambe nello stesso modo magari entriamo in profile e reimpostiamo la modalità bump così da avere il movimento simile a quello di una bocca ma questo effetto può essere combinato a un'opzione particolare che after effects ci mette a disposizione ovvero trasformare una forma d'onda d'audio in fotogrammi chiave ma tra poco lo vediamo e intanto direi di fare qualche esempio pratico per cui ci portiamo su questa composizione dove ho un primo piano di questo ragazzo e questa foto si presenta piuttosto bene al nostro effetto in quanto la linea della bocca è perfettamente orizzontale per cui con il livello selezionato richiamo il cc split 2 prendiamo i due cursori e li andiamo a posizionare agli angoli della bocca magari per metterli perfettamente in linea ci facciamo aiutare dal righello richiamabile premendo ctrl r e tirando quello nella parte superiore a questo punto muovendo lo split 1 e 2 avremo il movimento che simula quello della bocca la prima cosa semplice e immediata è che questa apertura rivela il canale alfa sottostante per cui possiamo aggiungere una normalissima immagine magari di una bocca da vampiro proporzionarla e posizionarla in maniera gerarchica sotto a livello così da intravederla durante l'azione dell'effetto e nel caso di un movimento del livello principale la ancoriamo a esso tramite parentela dove possiamo animare le due proprietà split attraverso dei fotogrammi chiave nel tempo o un'espressione come il wiggle ma la vera difficoltà sta nel creare il movimento della bocca in base al suono che emette infatti le animazioni che abbiamo visto anche all'interno della spiegazione del plugin di duic bassell gestivano in sequenza delle immagini di bocche che simulavano il parlato ma possiamo trovare varie immagini sul web come questa che identificano la posizione della bocca in base ai suoni emessi per cui se dobbiamo far corrispondere il movimento della bocca delle parole o un file audio possiamo sfruttare un'interessante opzione che sincronizza piuttosto bene questi aspetti per cui ci portiamo su questa composizione dove abbiamo un pupazzo di babbo natale dove ho già inserito lo split 2 per creare l'apertura del livello come se fosse una bocca inseriamo il nostro file audio e con il tasto destro andiamo su assistente fotogrammi chiave e clicchiamo converti audio in fotogrammi chiave questa operazione andrà a generare un nuovo livello null chiamato ampiezza audio dove al suo interno troviamo tre controlli cursore che gestiscono il canale audio sinistro quello destro o entrambi quindi in stereo e nella timeline se premiamo il tasto U avremo dei fotogrammi chiave che rappresentano la posizione dei toni medi bassi e alti delle parole se ora apriamo il livello audio originale per vedere la forma d'onda potremo vedere come il grafico sale e scende in base alla modulazione delle parole per cui quello che dovremo fare è collegare le proprietà di split al cursore di entrambi i canali del livello ampiezza possiamo quindi eliminare quello sinistro e destro e ora dalla timeline facciamo alt più clic sull'orologio dello split 1 prendiamo il suo pick whip e lo colleghiamo alla proprietà cursore facciamo lo stesso sullo split 2 quindi alt più clic prendiamo il cursore e lo colleghiamo anch'esso alla stessa proprietà del canale stereo se ora mandiamo in riproduzione avremo il movimento sincronizzato alla forma d'onda dell'audio dove però il movimento del labbro superiore è identico a quello inferiore mentre nella realtà quando parliamo quello superiore si muove un pochino di meno per cui dobbiamo ridurre l'estensione di quei fotogrammi chiave pertanto ci basterà portarci sull'espressione dello split 2 e alla fine della stringa inserire un meno magari imposto nel mio caso un meno 5 ma voi potete impostarlo come preferite in base al risultato che volete ottenere mandiamo in riproduzione e avremo sincronizzato il movimento della bocca alle parole del file audio capito come gestire questo aspetto potremo dare vita a scene davvero simpatiche e creative dando vita anche a oggetti inanimati bene ragazzi per questo effetto è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao